Io sono Paolo Antonini, ci troviamo a Terni, in Umbria. Sono la dodicesima generazione di olivicoltore in questa famiglia. Questa famiglia si è sempre fatto questo lavoro. L'azienda è documentata dal 1790. Il frantoglio non era all'interno dell'azienda come oggi, ma era nella città, in una via che prende appunto il nome dall'attività che ci si svolgeva. Per circa 200 anni il frantoglio è stato ubicato in questa via e poi è stato spostato all'interno dell'azienda negli anni 90. Noi produciamo olio dopo Umbria Colli Assisi Spoleto. Il nostro olio è tracciabile in ogni sua fase di lavorazione, dalla produzione delle olive alla trasformazione in frantoglio e alla sua gestione nel magazzino. Tutto questo risulta dai vari passaggi che vengono effettuati e controllati dall'ente certificatore. Il nostro è un olio fruttato, con un giusto equilibrio tra l'amaro e il piccante. Le varietà che coltiviamo nei nostri olivelli sono prevalentemente moraiolo, leccino e frantoio, come prevede il disciplinare. Io sono nato e cresciuto in una famiglia dove da sempre si è fatto questo lavoro e poi crescendo mi sono appassionato e ho fatto sì che diventasse il mio lavoro. C'è una stretta collaborazione tra tutti i componenti della famiglia e ognuno cerca di darsi una mano per ottenere alla fine quello che è il risultato che ci accomuna.